Grande successo per la serata delle Fonti Awards tenutasi lo scorso giovedì 4 aprile a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Il ruolo del penalista oggi e le nuove sfide, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani che ha visto la partecipazione di Chiara Padovani, fondatrice studio elegale Padovani, e Dario Bolognesi, fondatore studio Bolognesi, avvocati penalisti d'impresa. La serata è proseguita con la cerimonia delle Fonti Awards diritto penale che ha visto la premiazione dei principi del foro. Sono stati meriti e la benegazione per la professione a motivare l'assegnazione del riconoscimento più ambito della serata, il premio alla carriera diritto penale accompagnato da una standing ovation. Grazie alle fonti, è questo uno dei momenti più emozionanti della mia vita, ha commentato la professoressa avvocato Paola Severino. Boutique di eccellenza dell'anno, diritto penale, il premio viene assegnato allo studio legale Padovani per la grande professionalità nell'offrire un'assistenza giudiziaria e di consulenza preventiva completa nell'ambito del diritto penale per essere una realtà specializzata, dinamica e capace di raggiungere in modo rapido ed efficace i risultati e gli obiettivi di ciascun cliente. Ed eccoli che arrivano in team, in squadra, come è giusto che sia. Buonasera e arrivata, buonasera, buonasera, attenzione eh, buonasera, salve, salve, buonasera, voi noi wireless eh, dai, bene stretti. Premiamo la boutique di eccellenza dell'anno, diritto penale. Avvocato Padovani, l'avvocato penalista è un po' come un chirurgo, deve risolvere appunto il problema dei clienti nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile perché in ballo c'è proprio la libertà personale dell'individuo. Alla luce di questo scenario, quanto pensa sia cambiata la figura del penalista oggi e come pensa si possa intervenire per migliorare ulteriormente? Beh, la metafora e il paragone corretto con una differenza sostanziale che il chirurgo quando interviene, interviene su un paziente incosciente. Noi interveniamo invece su un assistito che è sempre più informato, che è spesso coinvolto anche in nuove forme di tecnologia per il tipo di contestazione che gli viene fatta ed è fondamentalmente un cliente anche internazionale. Quindi questo sapere nuovo del cliente pone l'avvocato di fronte ad una sfida di sempre maggiore formazione, sia a livello scientifico, a livello tecnologico, ma anche a livello trasnazionale, proprio perché abbiamo a che fare con mondi giudiziari, con culture giuridiche completamente diverse dalla nostra. Quindi non è solo poi un problema di lingua, ma diventa proprio un problema di linguaggio. Quindi certamente è fortemente cambiato il ruolo del penalista perché richiede, dicevo, una formazione sempre più elevata ed eterogenea ed è sicuramente una trasformazione che va verso il miglioramento, verso uno standing sempre più elevato. Nel corso del CEO Summit di questa sera si è parlato molto dell'impatto delle nuove tecnologie sul processo penale. In particolare l'intelligenza artificiale nel settore legale è un tema che attira e preoccupa nel contempo. Quali garanzie è possibile riconoscere ai soggetti sui quali eventualmente impatta questa intelligenza artificiale e può spingersi, secondo lei, fino a predire il successo di un'azione giudiziaria o l'esito di una causa? La tematica è una tematica di grande attualità, quella dell'applicazione dell'intelligenza artificiale o delle forme di certificazione della prova penale attraverso il black chain, il cosiddetto metodo BC. Certamente l'impatto sull'imputato, ma anche sulla persona offesa, è notevolissimo. Il vero problema è il problema del controllo del metodo di intelligenza artificiale utilizzato e quindi diventa un problema di maggiore responsabilizzazione da parte degli organi di polizia, da parte degli organi investigativi prima, della difesa poi e del giudice che andrà a valutare queste nuove metodologie di ricerca della prova e impongono ovviamente un grande rigore, quindi una responsabilizzazione verso un rigore garantista che ovviamente l'intelligenza artificiale come tutte le nuove forme di tecnologia impongono. C'è da dire che gli scenari sono sempre più inquietanti perché ad esempio negli Stati Uniti vengono utilizzati addirittura degli algoritmi per sondare la tipologia di vita telematica virtuale di un soggetto, di un individuo e sulla base di questi algoritmi e di questi dati, si va verso una sorta di predicting policy, cioè l'attitudine, l'indole criminale potenziale di un soggetto tratta dalla sua vita, dalla sua vita di navigazione in internet. Quindi le problematiche che si imporranno nel processo penale sono sempre più importanti, ardue e impongono una conoscenza non di poco momento per il penalista. Il processo penale telematico nel nostro ordinamento è in fase di sperimentazione, infatti gli atti penali sono ancora cartacei e la digitalizzazione non si è completata, al contrario di quanto si riscontra nel processo civile. Lei cosa ne pensa di ciò e potrebbe contribuire a rendere più ordinato ed efficiente l'intero meccanismo o vede più svantaggi e necessità di miglioramenti? No, io credo che la digitalizzazione sia un percorso necessario in termini di efficienza e di velocizzazione nella conoscenza dei dati, dei dati probatori, degli atti e dei documenti che vengono messi a disposizione all'imputato e sulla base dei quali si forma l'accusa. Non vedo grosse problematiche se non l'applicazione di una metodologia estremamente corretta che, come dire, sgombri il campo da possibili digitalizzazioni parziali, non corrette, ma è la stessa problematica che si pone oggi. Teniamo presente che nel processo penale non c'è ancora una digitalizzazione nel senso di ammissione della prova puramente digitale. La prova si accompagna sempre anche al dato cartaceo, questo è un dato fondamentale, un elemento fondamentale ancora presente nel nostro processo, ma credo che la smaterializzazione dei documenti e degli atti sia di grande aiuto in termini di efficienza e di celerità del processo senza che ne vada di mezzo le garanzie di tutela dell'imputato. La domanda è stata un'imputato. La domanda è stata un'imputato. La domanda è stata un'imputato.